BD Lab Basketball Development Lab Ricente di centrare Fersaglio nero La scritta a Domios Ok Si basso Fanno il risultato Il passaggio Di bene la palla con la stessa mano Ok Facile Facile Adesso la punta Vedi da lì Speed 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 Dai Ricentrare il pezzo nero Vedi che stai vicino alla base Fai tutto più montato Bravo Aspetta qui la palla Dai 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 Ok Ok Banzo appena pieno dalla base Molto Molto il palletto Fuori Fuori Palletto Alternato 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 Dai dai C'è l'altra parte Bravo Stai un po' più lontano Forse Bene Buon lavoro Dai 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 Ok stop Ok Chiara amici Stai cambiando in mano Poi si chiede O fai così E poi E poi Stai cambiando in mano Per il piede Fai sicurato Le mani Con il piede Ok Stai cambiando Vai Stai cambiando in mano Stai cambiando in mano Ok Stai cambiando in mano 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 Stai marché Stai cambiando in mano StaiCK Stai cambiando in mano Stai cambiando in mano Grazie a tutti.